Per consolidare la quarta posizione la Renato Curiangolana è trasferta al comunale di Capistrello con Simone Miani, punto di riferimento centrale pronto a sfruttare gli appoggi di Farias, Criscolo e Casati ed è suo il gol che sblocca l'incontro in avvio come un rapace. Il solito Simone Miani vantaggio della Renato Curiangolana è strada subito in salita per il Capistrello che propone in avanti Cirelli come punta centrale qualche protesta da parte del Capistrello su questo tocco dentro da parte di Franchi per un presunto tocco di mano ad opera di Cichella. Quindi il raddoppio dell'angolana con Casati che sulla fascia destra riesce a servire ancora Miani, tutto troppo facile per il gol che vale il 2-0 del quarto gol nel minicampionato per Simone Miani. Prima dell'intervallo il tentativo di Cirelli che si perde fuori mentre nella ripresa con le immagini di Mario Giacchetta subito la reazione del Capistrello che deve rimuntare. Due gol con Antonio Franchi tra i migliori in campo prima dello 0-3 siglato da Samuel Di Renzo che beffa Federico Fanti con una conclusione chirurgica che tocca il palo prima di entrare in rete e il gol che può chiudere la pratica. Ma gara invece riaperta da Di Girolamo subentrato nella ripresa Piero Deramo e adesso ci crede il Capistrello che si porta sull'1-3. C'è tutto il tempo per rimontare la gran parata di Puddu su Norcia e adesso l'angolana balla pericolosamente dietro il 2-0 di Franchi su assist da parte di Daniele Di Girolamo. E adesso è assalto Capistrello a caccia del gol del pareggio che in verità arriva a stretto giro dopo un salvataggio sulla linea. Esplode la tribuna del comunale di Capistrello per il gol di Franchi doppietta anche per lui e a questo punto la partita torna in parità sul 3-3. E dall'altra l'angolana prova subito a tornare in vantaggio ma senza successo quindi su Cirelli. L'altro sull'altro versante una grandissima parata del giocatore dell'angolana Alessandro Puddu che sbarra la strada all'attaccante Granata. Ma ora la partita è apertissima ancora angolana. Un passo dal 3-4 saltano tutti gli schemi. Finale incandescente ammonito Puddu il portiere dell'angolana. Per l'intervento in uscita su Di Girolamo chiedevano il rosso i tifosi Granata. Altra parata da parte di Puddu tra i protagonisti della partita su De Roccis. Espulsi per proteste nel finale Paolo Giordani e Fantozzi dalla panchina. Una gara entusiasmante aperta fino in fondo ma alla fine devono accontentarsi di un pareggio Capistrello e Angolana al comunale. Termina 3-3.